Accompagnato da una carovana di ciclisti amatoriali composta da amici e sostenitori, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è partito questa mattina dall'arco di Augusto di Fano per testa alta e pedalare, ovvero una biciclettata lungo la vecchia via Flaminia che porterà il coordinatore dei sindaci DEM e presidente di ALI a raggiungere Roma in cinque giorni con tappe di 70 km l'una. Un viaggio che si inserisce nella candidatura alle elezioni europee sulla quale si scioglieranno le riserve probabilmente domenica ma che per Ricci ha anche uno specifico valore simbolico come spiegato dal sindaco allo star della pedalata. Domenica finalmente si chiudono le liste, come sapete ormai da mese ho dato la mia disponibilità per questa corsa, però questo viaggio ha intanzitutto un valore tematico perché è un viaggio per ricucire l'Italia, abbiamo scelto la vecchia via Flaminia che è stata una delle vie principali che ha collegato Roma con l'Oriente e con l'Europa partendo dall'arco d'Augusto di Fano che è uno dei monumenti, dei reperti storici romani più importanti che abbiamo nel nostro paese perché vogliamo in qualche modo ricucire l'Italia. In questo momento si sta discutendo in Parlamento il disegno di legge sull'autonomia differenziata, è un disegno di legge molto pericoloso perché divide un paese già molto diviso dal punto di vista sociale e territoriale e non lo divide solo tra nord e sud ma rischia di dividerlo anche tra centri e periferie, tra coste e aree interne e noi abbiamo un compito in più in questa parte del paese perché noi non solo siamo la cerniera che tiene unita l'Italia ma noi rischiamo anche di più dentro l'autonomia differenziata, di essere di nuovo schiacciati da una questione meridionale storica che giustamente verrà difesa e una questione settentrionale che riemerge. L'altro tema è il tema della sostenibilità, il 2023 si è chiuso con una notizia agghiacciante, è stato l'anno più caldo della storia e la risposta non è, come sento dire ogni tanto dalla destra negazionista, rallentare la transizione ecologica, la risposta è accelerare la transizione ecologica, l'esatto contrario di quello che stanno dicendo e quindi aver scelto la bicicletta come simbolo è un modo per far diventare la sostenibilità sempre più un elemento della nostra politica. Il terzo tema, ne abbiamo fatte tante in passato, è anche una biciclettata per la pace perché siamo circondati dalla guerra in Ucraina, in Medio Oriente, è un escalation militare che rischia di aumentare giorno dopo giorno e quindi va rialzata anche con forza la cultura della pace. La prima giornata sui pedali ha portato Ricci a Cantiano passando per il furlo. Perché noi oggi andiamo verso il furlo come prima tappa e avremmo voluto farlo lungo una pista ciclabile. Invece da anni un dibattito ideologico arretrato su un ritorno di una ferrovia che tutti sanno che non tornerà mai ha bloccato il progetto della pista ciclabile e quindi è anche questo un modo per rilanciare un progetto fondamentale per la vallata del Metauro che poteva essere già realizzato esattamente come la ciclabile tra Pesorefano ma per una visione miope della mobilità e un po' nostalgica è ancora ferma al palo, è una delle tante promesse mancate della regione Marche e quindi tappa dopo tappa metteremo a fuoco anche i vari problemi dei luoghi specifici che andremo a visitare.